Ad e benvenuti in questo nuovissimo episodio, in questo nuovissimo video. Allora, questo tizio qua, Andrea Bion, novanta, zitti, stai zitto, c***o, coglioni zitti. Allora, se vedete questo qua, dovete assolutamente focussarlo, focussarlo e insultarlo. Scusate per questo ma sono un'antiesa anche di me CSG. Allora, sto recando, preparati ad essere focussato. Quindi se lo incontrate in partita lo dovete insultare e focussare e fare tutto per non farlo giocare Con il canale di 2 iscritti 2 più 377 Sai sono un po' di più Di più di 2 Mi allora scusa Oh che peccato Peccato che ora Ora verrai bannato E in qualsiasi server tu join Se c'è un mio fan ti chilla LOL Ripiglati disagiato Ah si io Non tu che usi hack Coglione Sì infatti ne ho quanto te ma sono più maturo di te Coglioncello di merda E aggiungo anche un bel porco dio Sì Sei 99 e hai 16 anni Pure Coglione Non sai neanche Fare i conti Che ridere che mi fai Sono Del 2000 Testa di cazzo Ma tu di anni Ne dimostri Due Idiota Bannato Coglione Vedovo Vedovo giusto perché sei stupido Focussa su Andrea Bino Che citta Vediamo se lo focussano di brutto Vediamo se lo focussano di brutto Faccio i video come Dave Kong Tanto voto Eh bravo Sono io Ah lol 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 Peppe Che c'è? Non rispondi? Hai paura? Strizza Lezzo Che giochi ancora a Minecraft Coglione che Non sa neanche cosa sono I disguisati Ne ho 22 Si sono nel 92 Ne ho 22 Ha ragione No, a dire la verità Adesso dovrebbe essere 23 Andisguisati 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 Vediamo cosa Perché così magari capisce che Che si sono Ma c'è saponetto Che Sei intelligente Vuoi un biscotto Ripieno di merda? La mia Casereccia Ah E saluta Il tubo Stai bene Tu no Questa è bella Non è canale Guardi che è in sotto Che vuoi? Mettermi non mi piace? Che paura Che paura Porte Di un coglione Che non sa giocare E quindi Usa le hack E ho pure scritto male Tanto ti sto Reccando Lol Vediamo Vediamo Levati le hack Magari così Vediamo Che tanto Che tanto Sei bannato Ok c'è una mappa The survival games 4 Questo era un piccolo Un piccolo incipit Ok c'è una mappa The survival games 4 E siamo con Cazzo però Dal ts Di pubblico Oh Ha levato le hack Madenna L'ho convinto Tanto non sa che Che è comunque bannato Schifoso Dov'è? 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 Che ho preso l'arma Sono crashato Sbaglio Sto crashando Merda Ovviamente Vabbè Fa niente L'importante è che Io sto Ok sono crashato No anzi Cos'è successo? Che merda Ah lol Insomma è andato giù il server Ok vabbè niente Comunque avete visto quello lì Che è stato bannato Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti